Ed eccoci qui in un altro video in cui io vado a esaminare delle foto che voi mi sottoponete e vado a raccontarvi che cosa penso del vostro lavoro. Quindi questo sarà, chiamiamolo, un video critica, dove ovviamente non è che starò lì a puntare il dito e a dirvi che fate schifo. Anzi, al contrario, andrò a evidenziare quelle che sono, secondo me, le cose che si potevano fare non meglio, ma diversamente, in maniera tale da parlarne in maniera costruttiva. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, faccio il fotografo da diversi anni e da altrettanti anni mi diletto a realizzare video da caricare su YouTube. Oggi sono qui per portare avanti insieme a voi questo nuovo format che mi sembra a qualcuno stia già cominciando a dare un po' di soddisfazioni, in cui vado appunto a esaminare dei porfoli, delle fotografie, delle raccolte, delle gallerie, qualsiasi cosa che voi da casa mi inviate, e vado a darvi il mio parere, le mie opinioni e le mie sensazioni su, innanzitutto, su come state lavorando e, se possibile, se potete fare qualcosa per migliorare il vostro lavoro. Ovviamente faccio sempre questa premessa. Io non sono un giudice di X Factor, quindi in realtà io non ho titolo per dirvi se state lavorando bene o se state lavorando male. Quello che io posso fare, quello che potete aspettarvi da me se decidete di inviarmi un portfolio o un link o qualsiasi altra cosa, quello che potete aspettarvi è che io vi dica la verità, ovvero io vi dirò siete bravissimi, siete più bravi di me se questo corrisponde al vero, vi dirò che potete migliorare tanto se questo corrisponde al vero. Nel caso in cui ci sia qualche pecca evidente nel vostro stile fotografico posso dirvi qual è questa pecca e in che maniera si potrebbe andare a migliorarla. Vi faccio un esempio, se mi mandate una galleria piena solamente di foto sfocate, di foto mosse, di foto con un sacco di grana e di rumore, vi posso dire che magari sarebbe carino esplorare un'altra direzione, provare a cambiare lente, provare a incapsulare delle tecniche differenti all'interno del vostro stile in maniera tale da renderlo un po' più fruibile. In tutto questo cercherò di essere sempre delicato perché non è mia intenzione demolire eventualmente dei portfolio che mi vengono sottoposti e che io reputo inferiori a quello che sono in grado di fare io, non è assolutamente questa l'intenzione. Anzi, l'intenzione è proprio l'opposto, l'intenzione è darvi una mia opinione sincera in maniera tale che possiate cambiare direzione se lo reputate opportuno oppure consolidare la strada che avete già scelto. A questo punto vi ricordo che se volete a vostra volta sottoporre il materiale potete contattarmi come reputate più opportuno, quindi la cosa migliore è scrivermi prima un commento sotto uno di questi video così innanzitutto abbiamo un primo contatto e poi da lì ci mettiamo d'accordo per come mi potete inviare il link. Finché siete in pochi cerco di gestirla a braccio, poi vedremo. Vi ricordo a questo punto di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, così nel caso mi inviaste qualcosa non rischiate di perdervi il video dedicato alle vostre immagini. E adesso siamo pronti a saltare dentro nel mio computer per andare a esaminare questo portfolio. Molto bene, eccoci qui all'interno del mio computer dove andiamo a esaminare il portfolio di Giuseppe che è stato caricato su Adobe Stock, quindi una piattaforma che ho utilizzato anch'io fino a qualche tempo fa. Andiamo a esaminare la prima pagina, quindi non vado a vedere la collezione ma vado a vedere tutte le immagini caricate. Si evince immediatamente che Giuseppe è un fotografo che lavora prevalentemente con le persone e se in alcuni scatti si potrebbe intuire che magari sono familiari e amici, si potrebbe intuire perché poi non è detto, in certi altri mi sembra abbastanza evidente che sono degli stage inscenati, quindi anche con degli attori e con dei modelli pagati proprio per questi shooting, perché sono di una certa complessità. E devo dire anche che mi sembra un gran bel portfolio per quanto riguarda il microstock, perché qui abbiamo tanta varietà, vedo tante persone diverse, quindi non sono sempre le solite quattro persone vestite in maniera diversa e fatte figurare in fotografie diverse, vedo proprio tante persone diverse. Ovviamente ogni tanto c'è qualche modello o qualche modella che ricorrono, magari sono familiari o amici come detto prima, però vedo comunque una bella varietà, vedo tante persone diverse, tante location diverse. In generale vedo un incarnato che mi sembra sempre molto ben gestito. Qui vedo addirittura che è stata usata la nuova funzione per caricare le immagini già scontornate, quindi in versione PNG senza lo sfondo, quindi anche da questo punto di vista non ho niente da dire. L'esposizione mi sembra sempre gestita molto molto bene, anche perché mi rendo conto che in shooting come questo, ecco facciamo un'osservazione su uno shooting come questo, qui io mi rendo conto perfettamente che la scena è stata gestita bene, la fotografia è giusta così, rende benissimo, l'unica cosa forse che io, ma ripeto io, avrei fatto diversamente, è l'esposizione dell'esterno. Da buon fotografo di interni mi accorgo subito che qui l'esterno è un po' troppo sovraesposto, quindi la cosa che si sarebbe potuta fare sarebbe stata aumentare l'illuminazione in sala, quindi magari usare un flash probabilmente c'era già, io adesso non so con cosa sia stata scattata, però è possibile che ci sia già l'utilizzo di un flash per schiarire alcune parti. Ecco, in questo caso io avrei aumentato la potenza dell'emissione di questo flash o l'avrei avvicinato alla mia scena in maniera tale da poter gestire separatamente i tempi e quindi diminuendo i tempi di scatto mantenere un pochettino più scura la parte fuori dalla finestra. Quindi questa è l'unica cosa che mi sento di dire su questa immagine che comunque funziona bene anche così, quindi la mia sarebbe una miglioria assolutamente non necessaria e mi rendo conto benissimo, perché faccio microstock anch'io, mi rendo conto benissimo che nell'economia di uno shooting come questo, in cui molto probabilmente si pagano queste persone per essere qui a figurare e in cui molto probabilmente si paga lo spazio in cui si sta scattando, un giochino come questo per esporre meglio l'esterno è proprio l'ultima cosa a cui stiamo pensando, perché noi dobbiamo far fruttare il tempo che abbiamo pagato. Detto questo ci sono altre scene come questa per esempio, questa mi piace moltissimo, in cui il fatto che ci sia una parte sovraesposta gioca a nostro favore, qui la luce è bellissima su di lei, non so come sia stata fatta, forse era una finestra vera, probabilmente era una finestra vera, ma forse c'è anche l'ausilio di qualche luce artificiale che è stata introdotta. Non riesco a capire bene, ma qui mi sembra che ci sia una catch light dall'altra parte che potrebbe essere un pannello riflettente per riempire le ombre, quindi comunque stiamo parlando di un'immagine non difficile da fare, però fatta con molta competenza, cioè qui chi ha scattato sapeva esattamente quello che stava facendo e quello che voleva ottenere. Andiamo avanti, vediamo che ci sono foto fatte sia in interno che in esterno, vediamo qui, voglio capire una cosa, qui a me sembra, e poi ci vedremo magari nei commenti per capire se mi sono sbagliato, mi sembra che questa grafica fosse veramente sul monitor, perché si possono aggiungere in post, però questa mi sembra che fosse già sul monitor, perché la vedo molto ben amalgamata all'interno della scena, quindi se è stata inserita dopo è stata inserita molto bene, però questo denota una cura anche della scena, perché comunque ci si è presi la briga di inserire questa grafica qui dentro, grafica che probabilmente è stata anche realizzata apposta, perché nella fotografia di microstocchi io non posso prendere una cosa non mia e sbatterla dentro così, quindi probabilmente c'è anche una cura per questo tipo di dettagli. Così come c'è sicuramente una cura anche in immagini di questo tipo, vedete, qui c'è una cura nel non prendere le etichette, perché le etichette con sopra stampigliato un logo o comunque elementi riconoscibili poi rendono la fotografia inutilizzabile, e quindi anche in questo c'è stata una grande cura dei particolari. Qui nuovamente a me casca un po' l'occhio sul cielo, che è molto chiaro, però questo probabilmente era un tramonto e qui ovviamente la scelta è di avere l'esposizione corretta sull'incarnato, sulle persone riprese. Il cielo è proprio l'ultima cosa che ci interessa, per cui sto puntando il dito contro il cielo, che per me è un po' troppo sovraesposto, proprio perché è l'unica cosa su cui posso puntare il dito, perché tutto il resto è assolutamente ottimo. Andiamo avanti, qui abbiamo delle belle scene con tantissimi attori diversi, qui ci sono veramente tantissime persone diverse, tantissime località diverse, con anche delle belle espressioni, una buona espressività. Qui vedo un utilizzo, mi sembra, dei flare che non sono sicuro se sono stati realizzati realmente in camera o se sono stati aggiunti dopo. Fatemi vedere un attimo. Sinceramente credo che siano entrambe le cose, credo che ci fosse una retroilluminazione, però credo che ci sia anche un flare aggiunto in post-produzione, quindi ottimo, quindi comunque ci sono più cose che sono state messe in gioco. Abbiamo delle immagini semplici, che possono sembrare molto standard, e delle immagini anche abbastanza raffinate, con dei soggetti che non sono facilissimi da trovare, perché la richiesta di immagini che raffigurano persone non più giovanissime, intente in attività delle più disparate, è una delle maggiori richieste che fanno le agenzie di microstock, quindi devo dire ottimo lavoro da questo punto di vista, e di nuovo bellissima l'esposizione sull'incarnato, quindi abbiamo magari sacrificato il cielo, ma l'incarnato è perfetto, e quindi da questo punto di vista veramente pochissime cose da dire. Ecco, è assolutamente evidente che qui abbiamo a che fare con un portfolio che si incentra soprattutto sulle persone, anche se abbiamo una bella varietà, e abbiamo anche delle illustrazioni, delle cose che si sommano. Comunque una fotografia come questa è complessa, perché qui comunque abbiamo cinque comparse, una tavolata che probabilmente gratis non era, e poi una lavorazione che non è neanche delle più semplici, con delle icone che come detto prima devono essere realizzate a mano apposta, non si possono prendere quelle di Facebook da sbattere qui dentro. Quindi, questo sicuramente è un portfolio che non è proprio da sbarbati, è un portfolio di ottimo livello, secondo me è bellissima questa, queste sono cose che una volta facevo anch'io quando avevo accesso a questi posti, e veramente molto molto bella, anche molto curata la scena, curata la composizione. Andiamo, allora, sono 48 pagine di portfolio, quindi noi adesso andiamo a pagina 2, ma poi non guarderemo tutte 48 le pagine. Ok, siamo alla seconda pagina, e qui vedo che cambia anche la copertina, cosa che vi devo confessare non sapevo, perché non ho mai scorso un intero portfolio su Adobe Stock. Qui di nuovo vediamo una grande cura nei particolari, queste sono immagini che, secondo me, hanno un grande potenziale, perché ci sono tante persone diverse, di etnie diverse, di età diverse, e qui abbiamo gli uomini adulti che bevono, abbiamo i ragazzi che scherzano, abbiamo la ragazza che legge, abbiamo un sacco di cose che a me sembrano anche potenzialmente tratte da vacanze con gli amici, quindi qui si è anche magari cercato di ottimizzare i tempi, oppure possono essere tutti attori pagati, il che alzerebbe ulteriormente il livello di questo portfolio. Qui abbiamo delle immagini molto complesse, perché qui, guardate che roba, qui abbiamo un cartellone che probabilmente è stato realizzato apposta con un sacco di comparse che si tappano la bocca, quindi qui è stata inscenata una manifestazione. Queste sono immagini complesse da realizzare e devo dire anche con una cura sull'espressività e sulla scelta delle comparse veramente, veramente di livello. Non so se, questa forse era una manifestazione vera e questa è un'editoriale, però nel caso sia inscenata è veramente di ottimo livello. Andiamo avanti, qui abbiamo di nuovo scene di convivialità che possono essere sicuramente tratte da momenti di convivialità reale, ma sono un po' troppe per essere tutte reali, quindi secondo me molte di queste sono organizzate con attori pagati. Qui abbiamo una bella espressività anche dei personaggi ritratti, non so se questo sia un attore o un familiare o un amico, però abbiamo una bella espressività, abbiamo un bel punto di messa a fuoco con il resto sfocato. Questa è stata scattata con un grand'angolo, ma è palese che è stato fatto di proposito. Abbiamo immagini come questa che possono voler dire tutto o niente, ma proprio per questo si prestano per il microstock, perché potrebbero essere comprate per una molteplicità di utilizzi e oltretutto, devo dire, veramente spettacolare, perché qui abbiamo una capigliatura che io me la sogno di notte, non so cosa darei per avere questi capelli. Col colore ci siamo, però non so cosa darei per averli di questa lunghezza e di questa bellezza. Ok, arriviamo finalmente a qualcosa di diverso. Questa qui è una composizione che è anche possibile che sia posticcia, è anche possibile che sia un collage realizzato in post-produzione, però è un'ottima idea, perché questo rende benissimo l'idea della musica, dello studio di registrazione, e io ne so qualcosa perché li ho bazzicati parecchio gli studi, e qui c'è un meraviglioso copy space che possiamo tagliare a nostro piacimento per realizzare un banner, una grafica, quello che ci pare. Queste sono immagini che potenzialmente vendono tanto, anche queste sono immagini che possono vendere tanto, persone che si divertono, questi qui possono essere dei momenti di vita reale simulata, questa molto molto bella, sto cercando di capire se le luci dei cellulari sono vere o se è stato aggiunto qualcosa in post, tenderei a propendere per la seconda ipotesi, perché c'è troppo bagliore intorno, però questo lievissimo flare, questi leak che vengono fuori, queste sono le lucine vere, quindi un mix delle tecniche per un'immagine con un po' di color grading, qui forse è anche un po' forte come grading, sicuramente c'era un motivo, diciamo che nel microstock io tendenzialmente cerco di lasciarle più soft possibile in modo che il compratore possa decidere di post produrle a sua volta, però mi rendo anche conto che è altrettanto valido il ragionamento inverso, ovvero io te la do già processata in maniera tale che tu la scelga perché è già finita, quindi non c'è più bisogno di lavorarla ulteriormente. Qui bellissimo lo studio, queste qui a me piacciono molto, il bello sfocato che però lascia vedere cosa c'è dietro, qui abbiamo anche le grafiche, queste sono molto utilizzate oggi per i banner, siti web e cose varie, abbiamo una fotografia molto lavorata con delle grafiche sopra, vorrei mettermi anch'io a fare cose di questo tipo perché sono convinto che vendano abbastanza bene, e qui continuiamo sempre sulla stessa falsariga, qui finalmente abbiamo qualcosa di diverso, qui io potrei anche andare a leggere qualcosa ogni tanto, qui abbiamo un fiume che la mia geografia è molto debole, dovrei andarmi a vedere dov'è perché non lo so, però qui abbiamo un'esposizione di tutto rispetto perché vedo che abbiamo i dettagli sia nel cielo sia nella terra, quindi possibile che sia un HDR o forse è un recupero, quale che sia delle due direi che è eseguita molto molto bene, rende molto bene, e abbiamo dei colori che sono belli saturi, quindi immagino che ci sia anche un po' di lavoro sul contrasto, una fotografia che va benissimo, poi se venda o no un tipo di immagine come questa dipende dalla location, però la vista sicuramente si lascia guardare. Facciamo un salto avanti, perché come detto le pagine sono troppe, questo portfolio è molto vasto, quindi non possiamo guardarle tutte, facciamo un salto avanti di una decina di pagine, e vedete che qui abbiamo una serie di grafiche per Pasqua, e anche queste devo dire, allora magari non sono attualissime, perché oggi magari io le cose che vedo perlomeno, le cose che vedo in agenzia sono molto più grafiche, queste qui mi sembrano un pochettino passate, saranno di, non lo so, voglio tirare a indovinare, io dico cinque anni fa. Vediamo se mi dice la data di caricamento, forse non sono capace di vederla io, forse c'è da qualche parte, se qualcuno sa come si vede la data di caricamento su Adobe Stock, me lo segnali in un commento. Secondo me non sono di adesso, secondo me ci hanno qualche annetto queste foto, sono buone, sono fatte benissimo in studio, luce curatissima, concept assolutamente valido, per quello che vedo io oggi, oggi vanno molto di più le grafiche piatte di questo tipo di cose, però qui c'è anche una cura nell'andare a pitturare tutte le uova, quindi assolutamente ragguardevole lo sforzo. Qui abbiamo cose che ho fatto anch'io negli anni passati, cose che funzionavano, non so se funzionino ancora, però vale sempre la pena sperimentare con soluzioni di questo tipo, qui forse abbiamo anche un drone, cosa che non è mai da buttare via, sì 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 decisamente abbiamo un drone qua, perché o abbiamo un drone o abbiamo un elicottero, quindi propendo per il drone, e qui come sempre ci manteniamo su un livello che è medio alto, perché qui abbiamo un'esposizione che ha sempre una cura bellissima, abbiamo un'espressività che ha una cura che ti sto invidiando, posso dire, perché è evidente che tu sei più bravo di me nel lavorare con le persone, nel mettere le persone a proprio agio, e nel farle esprimere, e nel dirigerle, quindi veramente da questo punto di vista, lo dico senza problemi, qui abbiamo un fotografo che è più bravo di me a fare questa cosa qui, idem dicasi per, ecco, lavorare con i bambini, questa è una cosa che secondo me rende sempre tanto, perché non ce n'è tantissime di foto così, quindi queste cose secondo me va sempre bene farle, rendono sempre bene, ora, finalmente abbiamo un po' di still life, che non è neanche malaccio, ora andiamo un po' avanti, uh architettura, le robe mie finalmente, qui abbiamo un santuario, quindi qui abbiamo anche qualcosina estratto dai viaggi, secondo me, che ci sta sempre bello, il floppy, dove ognuno può mettere il suo logo, la sua scritta, il suo claim, quello che è, qui abbiamo una bellissima foto con la retroilluminazione, molto molto bella, bellissimi anche i colori, questa è tutta roba, guardate com'è gestita bene, guardate che sono tutti belli a fuoco, tutti che guardano in camera, tutti sorridenti uguali, è inscenata molto molto bene, andiamo avanti di un'altra decina di pagine, così ci muoviamo insomma nel corso degli a, ecco qui abbiamo robe, robe covid, che sicuramente hanno venduto in passato, adesso non più, ma valeva la pena farle, le ho fatte anch'io, ora, io mi soffermo sulla richiesta, che mi è arrivata insieme a questo portfolio da esaminare, la richiesta era fondamentalmente, vale la pena fare fotografia di oggetti, perché, ma bellissima questa, queste robe qui mi piacciono sempre tanto, bellissima la luce, anche blu da una parte, rossa dall'altra, mi ricorda quella che uso io, allora, la richiesta fondamentalmente era, vale la pena fare fotografia in studio di oggetti, perché chiaramente, fare foto a tutte queste persone, con tutte queste location, ha dei costi non indifferenti, qui o abbiamo rotto le scatole a quattro amici, oppure abbiamo pagato quattro attori, e pagare quattro attori è pesante, mentre, se facciamo una roba del genere, è una roba del genere, è fondamentalmente gratis, abbiamo speso tre euro di pomodori, nel peggiore dei casi, tutto il resto ce l'avevamo già, e qui abbiamo del materiale bellissimo, come sempre, allora, la mia ipotesi, il mio parere sulle fotografie in studio, è che dipende molto da quello che fotografi, nel senso, ci sono oggetti, che a me hanno fruttato tantissimo in passato, ma veramente tantissimo, e ci sono oggetti, che valgono meno del 2D pic, qui abbiamo, queste sono anche esperienze di vita, questa è una vendemmia probabilmente, queste sono immagini anche rare, anche potenti, queste qui sono, queste sono belle cose, vedete però, che andando avanti, effettivamente, ci sono tantissime persone, tanti brindisi, tanti momenti di convivialità, le code per il covid, quindi questo è un portfolio curato, che sta al passo con i tempi, però effettivamente, ci sono pochi oggetti, c'è poco still life, questa è spettacolare, sta qui, chissà quanto avrà venduto, se è stata scattata nel momento giusto, ci sono, guardate, anche bambini, animali, persone anziane, quindi c'è veramente tutto, dal punto di vista delle persone, manca un po' l'oggettistica fine a se stessa, anche questa bella, questa roba qui bella, mi piace un sacco, manca l'oggettistica un po' fine a se stessa, ora il punto è, ci sono oggetti che vendono tanto, come microstock, e ci sono oggetti che vendono pochissimo, vi faccio qualche esempio, la tecnologia secondo me vende, io ho sempre pubblicato immagini di tecnologia, quando mi compro qualcosa, faccio sempre la foto, se compro un nuovo cellulare, ecco questa, questo è l'esempio perfetto, se ti compri una cosa nuova e la fotografi, è probabile che qualcosina venga venduto, una cosa del genere è probabile, che almeno qualche download lo generi, è sempre una scommessa, perché dipende se è fatta bene, questa qui è su sfondo bianco, sfondo bianco perfetto, che non si vedono praticamente, sì qui si vede un po' di bordo, ma è la filigrana di Adobe Stock, la foto era giusta in sé, è la filigrana che trae in inganno, quindi a seconda di quanto bene l'abbiamo fatta, può vendere di più o di meno, però dipende proprio dall'oggetto, perché il punto è, se abbiamo a disposizione un oggetto figo, come può essere anche un oggetto vintage, è una cosa di questo tipo, anche col vespino, una cosa del genere può vendere, perché c'è il vespino, perché c'è l'oggetto, quindi bisogna vedere che oggetti abbiamo a disposizione, perché se abbiamo a disposizione dei vecchi computer Apple, di quelli di una volta, piuttosto che qualcosa di vintage, un bello orologio, una cabina del telefono, queste qui sono le vecchie cabine del telefono, questa qui è distrutta, sembra che sia stata sott'acqua per anni, se abbiamo a disposizione degli oggetti, che vale la pena fotografare, perché sono rari, un vecchio telefono, un grammofono come questo qui, che adesso ormai non guardiamo più, vale secondo me la pena fotografarli, perché può essere che generino delle vendite, è un discorso un po' a perdere, perché non sappiamo se venderà, ecco ma qui in realtà c'è dello still life, guarda che roba, queste sono buone immagini secondo me, venderanno, non lo possiamo sapere, non lo sapremo mai, lo scopriremo solamente facendole, è una scommessa, dobbiamo provarci e vedere se vendono effettivamente qualcosa, sicuramente dipende anche da che cosa facciamo, perché faccio per dire, queste le ho fatte anch'io, il caffè, le cose del caffè, le ho fatte anch'io e devo dire che a me hanno venduto, sì ma pochino, la pasta che pure l'ho fatta anch'io, questa è pure integrale, pasta con sotto la tavola di legno l'ho fatta anch'io, a me questa non ha venduto niente, zero, sarà perché ce n'è già tante, sarà perché non gliene frega niente a nessuno, sarà perché se uno vuole questa foto se la fa da solo, non lo so, non vi so dare una risposta, fatto sta che il caffè per me ha funzionato poco, ma un pochino ha funzionato, la pasta proprio per niente, dipende anche dal momento sicuramente, qui abbiamo, cos'è una sfogliatina, una brioche, io ho provato pure a fare le brioche, ho venduto zero, ma proprio zero totale, mixer, io avevo accesso a dei mixer, perché ho bazzicato studi di registrazione, ho fatto il musicista per qualche tempo, ne ho fotografati a bizzeffe di mixer, venduti zero, ma veramente zero, sarà perché ce n'erano di più belli dei miei, io non lo so, ma ne ho venduti zero, aperitivi, ho fotografato cose di questo tipo anch'io, quindi questo cos'è, un arancino, sì è un arancino, anch'io ho fotografato cose di questo tipo, meno belle magari, però comunque, situazioni di aperitivi, cibo, ho venduto zero, perché non sono un fotografo food, probabilmente le mie foto di food, erano meno belle di quelle di altri, e quindi ho venduto praticamente zero, foto di animali, foto del mio gatto, io ho provato a caricarne qualcuna, in dieci anni ne ho vendute tre di numero, e il mio gatto è bellissimo, anzi la mia amicia, la mia amicetta, la mia principessina è bellissima, quindi il problema non è il gatto in sé, il problema è che ce n'è tanti, ed è un articolo secondo me poco richiesto, perché poi il gatto non si riconosce in foto, e non si lamenta se rubiamo l'immagine, quindi dei gatti e degli animali in generale, secondo me le zanzano anche le foto, che tanto il gatto in questione non si accorgerà mai, di essere stato usato a sua insaputa, e non si lamenterà mai, che dire, qui un po' di still life ce l'abbiamo, anche ambientato con un bel color grading, anche coerente, a un portfolio che ha anche una sua coerenza, abbiamo a che fare sicuramente con un fotografo, che sa fare il suo lavoro, secondo me il punto di realizzare fotografie still life in studio, è quasi un po' sprecata, su una mano come questa, perché io qui vedo un fotografo comunque che, ci mette del suo, che interpreta, che dà una lettura della scena, con l'angolo che decide di usare, con la luce che decide di utilizzare, con l'apertura che decide di utilizzare, quindi mettersi a fare still life puro, è sostanzialmente uno spreco, dal mio punto di vista, perché qui abbiamo a che fare con una mano, che può anche spingersi a illustrare, a interpretare il mondo, cioè guardate che belle cose, cioè questa qui è una bella foto, qui c'è anche una ricerca, andare a trovarsi il contesto, esporlo correttamente, comporre, cioè sono delle belle immagini, mettersi a fare il prodotto scontornato su bianco, è un po' limitante, secondo me, per un fotografo come questo, detto ciò, può valerne la pena, perché se imbrocchiamo l'oggetto giusto, può essere che con un oggetto, ci paghiamo i quattro modelli dello shooting dopo, quindi ne vale la pena, è da scoprire, per quanto mi riguarda, ne vale la pena, a seconda dell'oggetto ovviamente, magari non mi metto a fotografare, una moneta da 2 euro, che tutti quanti possiamo avere, ma magari mi metto a fotografare, un microfono come questo, questa secondo me vale la pena farla, questa assolutamente sì, una cosa che abbiamo tutti, come una moneta da 2 euro, magari no, ma un microfono, che è una cosa che non tutti hanno, e che a molti può servire, questa vale la pena, dipende proprio dall'oggetto secondo me, e poi bisogna un attimino tirare le somme, nel senso che se noi pubblichiamo, 100 foto still life come questa, con tutte le posate che abbiamo in casa, e poi non ne vendiamo neanche una, magari non ci mettiamo a fare anche i servizi della nonna, i piatti, i bicchieri eccetera eccetera, abbiamo capito, che questa cosa per noi non frutta, e quindi ci fermiamo lì, ma viceversa invece, se dovesse fruttare tantissimo, proseguiamo e facciamo i servizi, anche dei nostri amici e parenti a quel punto, bellissime queste, queste composizioni qui con le foglie, queste sono veramente molto molto belle, ecco vedete, una cosa così, non è detto che venda, io la trovo bellissima, ma non è assolutamente detto che venda, secondo me vale la pena provare a farla, perché potrebbe essere la foto che ci fa svoltare il portfolio, così come potrebbe essere un solenne buco nell'acqua, secondo me vale la pena farlo, però dipende anche dalle altre cose che dobbiamo fare, che bello che abbiamo un po' di architetture, cose antiche che piacciono a me, questa parte del portfolio mi sta piacendo un sacco, qui ci sono degli scavi, voglio sapere dov'è adesso, questa è Catania, io non ci sono mai stato, colpa mia vedete, non ci sono mai stato e quindi non la riconoscevo, bello, sta roba mi piace, a seconda di quello che facciamo può valerne la pena oppure no, come dicevo, sicuramente se siamo dei fotografi avviati con un'attività, stiamo dietro a dei clienti, magari possiamo uscire, passare la giornata fuori da fare foto per il cliente, ci portiamo a casa i nostri mille euro, a quel punto non vale la pena stare in studio, a fotografare degli oggetti per pochi centesimi, quindi dipende anche dal contesto, viceversa se abbiamo la giornata buca, la giornata senza clienti, bello questo, questa che è una bella foto, se abbiamo la giornata senza clienti, in cui ci annoiamo, siamo lì che ci giriamo i pollici, possiamo metterci a fare still life, e andremo a scoprire se ci ha fruttato, questa secondo me è una foto che vale la pena provare a fare, perché magari non vende niente, ma magari invece vende un sacco, e quindi secondo me vale la pena provare a farla, una volta, due volte, tre volte, poi si tirano le somme come detto, beh amici, come detto io non sto a guardarlo tutto questo portfolio, l'abbiamo sfogliato, ne abbiamo visto gran parte, mi sembra un portfolio molto curato, di un fotografo che sicuramente merita attenzione, perché sono foto fatte bene, io qui vedo una cura nell'esposizione, nel recupero, cioè sono immagini sicuramente ben realizzate, ben pensate, ed è un portfolio che non stento a credere, che gli frutti qualcosa, non so dirvi quanto, non so quantificare quanti soldi si guadagnino, con un portfolio come questo, però sicuramente qualcosa si guadagna, mi sembra un ottimo portfolio, è molto improntato su vita, all'aria aperta e persone, è molto improntato sulle persone, quindi provare a introdurre qualche oggetto, secondo me vale la pena, anche solo per capire se può fruttare oppure no, anche solo per capire se l'algoritmo premia la variazione, oppure, perché può anche essere che l'algoritmo invece disincentivi, può essere che l'algoritmo ci faccia capire, con una diminuzione delle vendite, che se abbiamo improntato il portfolio sulle persone, dobbiamo continuare sulle persone, perché se cominciamo a mescolare anche con still life, magari ci attira meno vendite, sono prove che dobbiamo fare, dobbiamo cercare di capirlo, detto questo, ribadisco i complimenti al fotografo, perché mi sembra veramente un ottimo portfolio, e ci rivediamo in studio per le considerazioni finali. Bene amici, eccoci qui di nuovo in studio, a questo punto io vi chiedo, lasciate un commento, ditemi anche voi che cosa ne pensate di questo portfolio, ditemi se siete d'accordo con la mia analisi, oppure se reputate che mi sia sfuggito qualcosa, parlatemi della vostra esperienza, ne parleremo tutti insieme nei commenti, e vi ricordo che io spesso e volentieri rispondo con degli shorts, con dei video verticali, quindi se vi iscrivete adesso al canale, non rischiate di perdervi eventuali risposte, che io potrei pubblicare a delle domande, o a delle affermazioni che mi lasciate qui sotto nei commenti. Amici, non mi dilungo oltre, è stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi, e io vi do appuntamento al prossimo video. Grazie.